Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video io sono Astro2.0 e oggi siamo tornati in un nuovo video in questo video di The Q2 che oggi è venerdì guideremo la Ferrari 458 speciale lo competa da poco infatti se vedete i chilometri ne ho solo 638 circa e quindi molto bella ci vediamo ciao 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 come vedete le pinze dei fenni diventano gialle si scaldano ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.